Per capire nel pacchetto, per entrare a fondo nel suo animo, vi consiglio, se vi capita di andare a Venezia, di fare una piccola gita alla Giudecca. In un palazzo del 400 c'è ancora oggi intatto il suo studio. Il suo talento si esprime in due elementi, il segno e il colore, perché pacchetto ha avuto una forza cromatica per cui era stato veramente capace di trasfigurare il reale attraverso il sogno, toccando diversi linguaggi del 900 europeo in maniera assolutamente originale. Raccontate sulle pareti di questo edificio le opere di pacchetto e le poesie di Diego Valeri, cui queste opere, queste incisioni, sono dedicate. Mare, fanciullo insaziato di gioco, vecchio mare insaziato di pianto, Tu, che sei lampo e fango e cielo e sangue e fuoco, Oggi hai lasciato alle lente rive orgoglio e forza, gaiezza e dolore. Oggi non sai che colore, un bel colore che vive. Rovesciavi il bel viso in fanciullesco modo per ascoltare quel trillo alto, perduto di all'odola. Guardavi stupita gli spazi bianchi, la bianca mattina fumante nel sole confusa alla bianca marina. Poi vennero i pescatori, con lunghi strappi oscillanti, con rotte grida, tiravano in secco le reti stillanti. Nel bruno, groviglio dei fili scorgesti, un guizzare d'argenti, di azzurri, di verdi. Ridevi tutta, occhi, labbra, denti. Chi era mio zio? Nello Pacchietto era una persona assolutamente entusiasta della vita, del lavoro, solare, assolutamente contento di lavorare sempre e molto umile. E quindi anche con molta umiltà noi ci siamo presentati, partendo piano piano e riuscendo a disporre queste cose di cui lascio il giudizio poi a voi. Qualche aneddoto su di lui era il fatto di dovergli sempre correre dietro perché lui era sempre impegnato a disegnare, a fare degli schizzi, a usare il suo taccuino. Quando si facevano delle gite insieme in autobus era sempre l'ultimo ad arrivare sull'autobus e bisognava sempre aspettarlo perché lui era sempre impegnato a disegnare. Era veramente la sua vita. Tantissimi amici mi dicevano e mi incitavano a promuovere queste cose che vedevano a casa mia, nel mio studio, a casa della zia a Venezia. L'idea sulla mostra di mia zia Nitta che tutta la vita ha seguito amorevolmente suo marito e l'idea di fare la mostra sull'Istria e tutto quello che stiamo facendo qua è merito suo. Quindi un grazie a zia Nitta. Grazie a tutti. I pesci rossi del tramonto calano al fondo delle chiare acque celesti. Dileguano, svaniscono e dal fondo perduto emerge lento un chedi bianco, un fil di luna ad arco, nitidissimo poi nel bigio crepuscolo. Quel segno di luce basta dare un senso, un'anima al deserto del cielo. È una presenza primitiva, lo sguardo di qualcuno forse impietoso ma pur vivo e attento a questa nostra sera derelitta, a questa orfana terra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.